amici buongiorno e ben ritrovati allora oggi trattiamo un aspetto diverso molti di voi mi hanno fatto domande mi hanno rivolto insomma messaggi e richieste relativamente al disturbo borderline di personalità perché alcune volte si può rischiare di fare un po di confusione il disturbo borderline di personalità secondo dsm 5tr rientra nel cluster b esattamente come come rientra nel medesimo cluster anche il disturbo narcisistico unitamente al disturbo antisociale al disturbo istrionico a alcuni aspetti in qualche modo che possono avvicinarsi al disturbo narcisistico ma nel caso disturbo borderline come vedremo tra poco l'io quindi la capacità complessiva di funzionamento del soggetto è molto più disregolato rispetto al narcisista otto camber che è uno dei più grandi esperti dal punto di vista psicodinamico disturbi della personalità sostanzialmente ritiene che anche il disturbo narcisistico il disturbo borderline possano essere in qualche modo accomunati da una medesima organizzazione borderline di personalità il narcisista ogni un po più strutturato gestisce un po meglio gli impulsi il border invece quella capacità che ha l'aspetto narcisistico non ce l'hai quindi quella disregolazione è più evidente ma andiamo a vedere più da vicino esattamente cosa si intende per disturbo borderline di personalità secondo chiaramente il manuale più utilizzato a livello internazionale che è il dsm 5 giunto alla sua nuova edizione con il 5 tr il disturbo borderline di personalità è caratterizzato da una modalità pervasiva di instabilità e di ipersensibilità nei rapporti interpersonali instabilità nell'immagine di sé estreme fluttuazioni dell'umore e impulsività c'è molta confusione anche purtroppo tra i clinici non solo tra i non addetti ai lavori tra disturbo bipolare disturbo borderline in realtà le due condizioni possono anche coesistere uno può avere un disturbo di personalità borderline e essere anche purtroppo afflitto da una problematica neurobiologica che riconduce al disturbo bipolare quindi attenzione perché il disturbo bipolare se è presente in un soggetto con disturbo della personalità borderline o tratti della personalità borderline importanti va addirittura a contribuire a peggiorare ulteriormente complessivamente la situazione e rende la vita molto difficile ai clinici sotto profilo psicoterapico e psichiatrico perché è molto più complesso curare un soggetto dove interagiscono queste due dimensioni ma sono due dimensioni completamente diverse chi soffre di disturbo borderline di personalità è instabile nelle relazioni interpersonali proprio per come funziona nell'umore nell'immagine di sé ed è estremamente impulsivo questo a prescindere da picchi di natura neurobiologica funziona proprio in maniera disregolata e funziona in maniera disregolata nelle principali aree di funzionamento quindi nelle relazioni nell'aspetto della gestione degli impulsi dal punto di vista lavorativo quindi sono persone profondamente instabili e marcatamente inaffidabili sotto questo profilo perché non riescono a sottrarsi all'impulso che si affaccia alla loro mente e lo agiscono e lo agiscono in maniera discontrollata quindi sono persone tipicamente propense a sviluppare dipendenze da alcol da stupefacenti dal cibo dal sesso dal gioco proprio per questa caratteristica che ha il loro io di non gestire l'aspetto funzionale queste caratteristiche compaiono nella prima età adulta e si manifestano in vari contesti si parla di disturbo borderline di personalità quando la persona presenta almeno cinque dei seguenti comportamenti si sforza disperatamente di evitare l'abbandono reale o immaginario tra questi sforzi bisogna includere anche i tentativi di suicidio e le automutilazioni l'autolesionismo tipico di chi soffre di disturbo borderline a relazioni interpersonali instabili e intense in cui l'altro viene alternativamente idealizzato e svalutato c'è anche nel narcisista questa propensione diciamo a alternare queste condizioni però nel borderline è estremamente intensa questa questa variazione molto più che nel narcisista narcisista sicuramente ha questo andamento tra idealizzazione svalutazione dell'altro nella misura in cui riceve o meno gratificazioni dall'altro il border quando idealizza è fusionale simbiotico non te lo levi mai davanti quando svaluta disprezza in maniera profonda e distrugge qualunque cosa gli capita a tiro quindi attenzione perché ad esempio con soggetti con disturbo borderline personalità molto grave sono abbastanza frequenti tra coloro che poi incappano in comportamenti persecutori perché non tollerando l'abbandono possono sprofondare in questo abisso d'angoscia e trasformare quell'angoscia in rabbia e l'unico modo che hanno per gestire quell'angoscia così profonda è far star male l'altro far incombere nella vita dell'altro perseguitarlo quindi attenzione perché il disturbo borderline può portare a sfociare in condotte di interesse criminale chiaramente ha sempre un'immagine di sé una percezione di sé marcatamente instabili è molto impulsivo in almeno due aree potenzialmente dannose per la persona in questione spese incontrollate sesso abuso di sostanze guida spericolata abbuffate automutilazioni tentativi dimostrativi di suicidio bla 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 ricorre a minacce tentativi di suicidio e automutilazioni proprio come forma anche di in qualche modo relazione con l'altro quando non ottiene quello che vuole è instabile sul piano affettivo e causa fondamentalmente problematica a livello relazionale proprio per questa sua marcata reattività del tono dell'umore ad esempio può avere degli episodi di disforia quindi un'alterazione dell'umore più in senso depressivo può manifestarsi come profondamente irritabile ansioso e questo può durare sia poche ore pochi giorni comunque periodi limitati quindi queste queste oscillazioni del tono dell'umore sono presenti anche nel borderline senza scomodare di solo bipolare prova una sensazione cronica di vuoto ed è l'elemento che purtroppo lo porta poi a non riuscire a tollerare la frustrazione e soprattutto non riuscire a gestire l'impulso in maniera funzionale prova motivata e intensa e ha difficoltà a controllare la rabbia per esempio ha frequenti accessi d'ira o una rabbia costante sono profondamente arrabbiati sono sempre iperattivati sotto il profilo delle emozioni negative ricorre spesso lo scontro fisico e poi c'è l'ideazione paranoide o gravi sintomi dissociativi che possono manifestarsi come episodi psicotici veri e propri di tipo allucinatorio oppure attraverso il pensiero delirante cioè il convincersi di tutta una serie di situazioni negative contro di lui o contro di lei che lo porta poi ad agire condotte profondamente aggressive che in realtà non trovano un riscontro nella realtà ma nell'interpretazione che il soggetto dà della realtà chiaramente in chiave malevola e comprottistica tanto più è alto il livello di stress a cui è esposto il soggetto con di solo borderline tanto più questa sintomatologia appena descritta può manifestarsi i sintomi devono essere iniziati nella prima età adulta ma chiaramente come vi dicevo per quanto riguardava il disturbo narcisistico possono già ampiamente presentarsi durante l'età evolutiva in particolare da parti a partire dall'ingresso nell'adolescenza ora qual è il profilo psico comportamentale di un soggetto che ha un disturbo di personalità borderline è un soggetto che tende ad auto boicottarsi in maniera sistematica in tutti gli ambiti della propria esistenza sotto profilo lavorativo relazionale sessuale sono quelli che appena stanno per ottenere qualcosa di importante niente fanno un passo indietro lo mollano arrivano all'ultimo esame all'università e non la concludono mai arrivano ad avere l'appuntamento con la tanto agognata persona che interessa per una vita per un motivo per l'altro con l'appuntamento non si presentano finalmente lavorano per ottenere quell'avanzamento lavorativo e poi fanno in modo in maniera di combinarla grossa per evitare di essere promossi quindi questa modalità auto boicottante molto molto frequente se qualcosa va bene nella sua esistenza chiaramente mette in campo tutta una serie di condotte disfunzionali affinché anche tale area di funzionamento che magari era stata preservata venga compromessa dalle sue problematiche a prescindere che si tratti di una relazione affettiva di una buona occasione lavorativa o di altre progettualità questo tipo di soggetti spesso possono presentarsi sintomi di interesse psicotico che portano a avere i propri cedimenti degli esami di realtà come allucinazioni o le cosiddette idee di riferimento questo genere di soggetto ha maggiori probabilità di mettere in campo condotte autolesive che possono variare di gravità intensità fino ad arrivare a condotte suicidari e vere e proprie soprattutto se il disturbo è in comorbilità cioè si presenta insieme a disturbi depressivi o con l'uso di sostanze superfacenti o alcol che è un elemento purtroppo che va a potenziare ancora di più la gravità del disturbo questo genere di soggetto non riesce a rimanere da solo e mettono in campo qualunque tipo di condotta con l'obiettivo di cercare di evitare situazioni di abbandoni che inevitabilmente innescherebbero crisi molto gravi e intense crisi che possono anche tradursi in comportamenti aggressivi nei confronti del soggetto da cui è stato in qualche modo o sente di essere stato abbandonato ingiustamente questo tipo di soggetto è propenso a mettere in campo gesti suicidari ogni volta che teme di essere abbandonato col preciso obiettivo di cercare accudimento e assistenza da parte degli altri ritenuti significativi a differenza del narcisista che minaccia il suicidio ma in realtà non l'ha mai praticato realmente il border invece il suicidio lo mette in pratica anche se a scopo dimostrativo cioè che ne so sono quelli che chiamano l'amico l'amica ti dice sto per ingerire una boccetta di psicofarmaco poi magari lo fa davvero ma prima ha avvisato qualcuno in modo tale da scongiurare l'ipotesi che poi effettivamente il suicidio abbia seguito cioè che arrivi effettivamente a concretizzarsi quindi c'è una dimensione dimostrativa è una richiesta di aiuto attraverso questa modalità poi capita anche che qualcuno di questi nel tentare di suicidarsi magari a scopo dimostrativo in realtà riesca a farlo ugualmente perché mette in campo delle condotte molto petrolose ma normalmente la parte dimostrativa è innescata dal fatto che si mettono già in condizione che qualcuno possa giungere in tempo a salvarlo e questo è tipico del border poi ripeto alcune volte questa loro pianificazione purtroppo è un po sgangherata e quindi il suicidio ahimè si verifica davvero fino in fondo è frequente in questo tipo di soggetti si manifesti anche altre condizioni l'interesse psichiatrico come depressione di surbi d'ansia grossa percentuale di soggetti con disturbo borderline soffre in maniera molto importante attacchi di panico disturbo post traumatico da stress disturbi dell'alimentazione disturbi da abuso di sostanze questi sono quelli che principalmente purtroppo compaiono insieme a questo disturbo tale condizione sembra essere generata da una serie di problematiche sperimentate dal soggetto durante la prima infanzia secondo la teoria diciamo di volbi si tratta di e poi ripresa da altri importanti autori come la svolfe fonaghi la maggior parte dei soggetti che sviluppa anzi diciamo la quasi totalità dei soggetti che sviluppa un disturbo borderline di personalità ha alle spalle un diciamo un accudimento disfunzionale e ha sviluppato un modello di attaccamento disorganizzato che purtroppo poi porta lì o a non costruire solidamente tutta una serie di strumenti adattativi e porta verso appunto il discontrollo in particolare degli impulsi quando si presentano situazioni difficili da governare quindi con emozioni negative dicevamo tende a manifestarsi durante la prima infanzia e il soggetto che poi sviluppa questo tipo di personalità tipicamente può aver subito una serie di esperienze profondamente traumatiche tra cui anche abusi sessuali abbandono genitoriale separazione problematica tra i genitori o l'aver perso uno dei due genitori o perché se ne è andato perché il disturbo borderline di personalità sembra avere una rilevante componente di tipo genetico ereditario soprattutto ovviamente dal punto di vista neurobiologico non è la parte temperamentale cioè parte neurobiologica la ereditiamo dei nostri genitori e c'è una componente purtroppo in questo tipo di situazione che la letteratura scientifica ha dimostrato essere influente sulla possibilità che il nascituro sviluppi lo stesso disturbo del genitore che ha il disturbo borderline non è una condana non è detto che lo sviluppi però una predisposizione neurobiologica obiettivamente esiste e quindi dal momento che i soggetti che hanno parenti di primo grado affetti dalla medesima patologia sviluppano cinque volte in più la probabilità di andare incontro al medesimo disturbo rispetto alla popolazione generale e non è poco questo genere di soggetti ritiene di essere abbandonato da parte delle persone che ritiene importante questo genere di sensazione genera un vissuto di intensa rabbia e paura possono manifestare reazioni intense di rabbia anche se la persona con cui ha un appuntamento tarda di qualche minuto se l'appuntamento viene annullato quindi già questo basta per scatenare vissuti abbandonati dal loro punto di vista essere abbandonati rimanda immediatamente alla percezione di sé come inutili cattivi non amati non considerati rifiutati e via discorrendo questo tipo di soggetti tende a manifestare idee propositi in maniera altamente ambivalente e possono cambiare idea sugli stessi argomenti sulle stesse persone anche in maniera molto rapida quindi la mattina sei la persona migliore del mondo e la sera sei l'ultimo degli ultimi stupidi sulla terra insomma fatemi usare parole accettabili per l'algoritmo in questa fase il soggetto borderline tenta di mettere in campo una vera e propria fusione con l'altro questo aspetto sindiotico cioè non ce l'hai sempre davanti li vedi anche nei bambini hanno magari il migliore amichetto la migliore amichetta e guai se il miglior amico la migliore amichetta gioca con altri perché immediatamente sentono minacciato il loro legame occhio genitori perché questo non è un buon segnale quindi attenzione perché questa modalità fusionale con l'altro e solitamente è un altro esclusivo quindi una persona specifica gli altri tipicamente non ci sono e guai a chi entra nella sfera di interesse di quella persona perché immediatamente viene percepito come un nemico da battere attenzione che questo è un tratto che potrebbe poi svilupparsi nel disturbo borderline quindi fate attenzione tendono a idealizzare le persone da cui ricevono accudimento solo nelle prime fasi del rapporto in questa fase il soggetto borderline tenta di mettere in campo una vera e propria fusione con l'altro che porta a condividere più tempo possibile più interessi possibili l'abitazione ma non appena percepisce il benché minimo cambiamento da parte dell'altro che banalmente gli può dire devo andare a fare questa cosa ci vado da solo oppure ritiene che in qualche modo l'altro non stia manifestando abbastanza interesse cura nei loro confronti tale idealizzazione si trasforma immediatamente in una totale svalutazione fino ad arrivare anche al disprezzo più assoluto e anche a aggressioni sul piano fisico proprio questo passaggio repentino dalla idealizzazione alla svalutazione dell'altro rappresenta una delle caratteristiche principali di questi soggetti ed è uno diciamo dei nodi principali del disturbo borderline di personalità il loro funzionamento in linea generale è caratterizzato da profonda ambivalenza quindi questo tutto buono tutto cattivo le vie di mezzo non ci sono le zone grigie non esistono per il borderline in particolare la rabbia che solitamente viene innescata da vissuti abbandonici perché un abbandono è stato effettivamente sperimentato e l'altro può avere le sue problemi per amore del cielo o perché si percepisce in qualche modo il soggetto si convince che l'altro sta per insomma mollarlo i soggetti con disturbo borderline tendono anche a mutare in maniera molto rapida l'idea e l'immagine che hanno di sé tale propensione si manifesta attraverso cambiamenti improvvisi ed irrazionali ad esempio nella carriera lavorativa di punto in bianco cambiano completamente lavoro oppure ambito di studi passano dalla facoltà un'altra che proprio non ha nulla a che vedere con la prima oppure le persone frequentate quindi sono cambiamenti molto rapidi che non hanno una una base diciamo razionale e che di solito sono alimentati dal desiderio di adeguarsi a un nuovo target perché percepito come maggiormente accudente in ipotesi diciamo con una fantasia di accudimento maggiore e quindi attenzione anche questi aspetti in cui cioè uno diceva guarda è una persona un po creativa no prende fa cambia tutto se ne va a prende va in india da che faceva il manager va sono aspetti che magari sono all'interno di progetti di vita tutto sommato razionali magari anche se a noi sfugge il senso a volte sono indicatori di una problematica proprio di immagine di sé e della capacità di progettarsi in un futuro possibile quindi attenzione anche questi aspetti di cambiamenti repentini stile di vita stile di abbigliamento stile alimentare perché possono effettivamente tradire l'esistenza di una personalità poco strutturata sotto questo profilo e poco difesa sotto questi aspetti si tratta di soggetti che tendono a boicottarsi in ogni modo possibile e quindi è frequente che abbandonino un obiettivo proprio mentre sono in procinto di raggiungerlo tra loro ci sono anche soggetti che lasciano gli studi a pochi esami o un solo esame della laurea il disfunzionale controllo degli impulsi porta molto spesso a condotti di tipo autolesionistico che possono non investarsi nelle seguenti aree promiscuità sessuale bulimia guida spericolata abuso di sostanze ludopatia acquisti compulsivi e chiaramente anche abuso di cibo fondamentalmente i gesti e le minacce suicidari sono molto frequenti anche se nella maggioranza dei casi si tratta di gesti dimostrativi che vi dicevo però da non sottovalutare che qualcuno di questi può anche andare a buon fine anche contro la reale intenzione di chi ha questo tipo di configurazione difficilmente viene elaborata una vera volontà suicidaria anche se il rischio di arrivare a suicidarsi realmente è 40 volte superiore rispetto a quello della popolazione generale in chi ha un disturbo borderline quindi attenzione nei soggetti affetti da questa tipologia di disturbo solitamente gli atti autolesivi vengono innescati da vissuti di rifiuto e di abbandono o dall'essere stati delusi dalle persone ritenute al centro del proprio universo affettivo quindi se vengono lasciati per intenderci oppure se scoprono che l'altra persona magari non ha non nutre nei loro confronti questa passione sviscerata e totalmente incontrollabile che invece hanno loro le delusioni sul piano affettivo spesso portano a condotte autolesive diciamo che l'autolesionismo non suicidario è l'indicatore più affidabile in adolescenza per individuare un soggetto che sta sviluppando un disturbo borderline episodi dissociativi quindi questo diciamo il contatto con la realtà alta allenante e anche chiaramente come dicevamo possono anche svilupparsi idee di macchine paranoidea fino a sfociare in delle proprie allucinazioni il concetto di borderline è proprio questo è una linea di confine tra psicosi e nevrosi quindi tra la dimensione più legata al disturbo della personalità e invece lo sconfinamento in una dimensione in cui l'esame di realtà non è più diciamo performante solitamente queste manifestazioni vengono scatenate da episodi ritenuti particolarmente stressanti e diciamo che la fonte di stress principale per un soggetto con disturbo borderline è quello di essere abbandonato che poi questo abbandono sia stato realmente sperimentato ossia frutto in qualche modo di un'ideazione chiaramente immaginaria paranoidea poco poco conta perché in realtà le manifestazioni poi di risposta a questo tipo di condizione possono essere assolutamente identiche sia che sia un abbandono reale sia che sia un abbandono in qualche modo fantasticato o immaginario questo per darvi gli strumenti per distinguere tra la componente borderline e la componente narcisistica perché sono due tipologie di disturbi di personalità che comunque hanno dei margini diciamo sia di trattamento sia diciamo di gestione nella vita quotidiana diversi e indubbiamente mentre per quanto riguarda disturbo narcisistico a meno che non ci sia una componente depressiva particolarmente rilevante difficilmente lo psicofarmaco può fare in qualche modo la differenza ma sarà di un'attività che deve di tipo terapico che invece deve proprio svilupparsi sul cercare di cambiare gli schemi di funzionamento di un soggetto con questo tipo di disturbo e sappiamo che non è facile perché difficilmente un narcisista ammette di avere un problema e quindi va in terapia il borderline invece è più facile che vada in terapia perché la sua vita la qualità della sua vita è fortemente condizionata dal disturbo in senso negativo quindi è molto più probabile che chieda aiuto anche in età abbastanza giovanile perché magari i genitori si preoccupano delle condotte di un figlio magari di tipo autolesivo e quindi o delle ideazioni suicidari è più facile che si rivolgono a uno specialista in questo caso però la psicoterapia è fondamentale così come è fondamentale anche il farmaco per gestire gli aspetti diciamo più discontrollati che possono portare il soggetto poi verso la dimensione più psicotica ci sono anche le diverse terapie nel caso degli slow borderline che hanno dato ottimi risultati quindi assolutamente non perdiamo la speranza perché sono disturbi che possono essere sicuramente trattati importante e comprendere soprattutto per i genitori che hanno ragazzi con questo tipo di problematiche che il percorso terapico è molto lungo e che va in qualche modo deve essere accompagnato nell'arco di vita del soggetto in maniera costante quindi è importante che ci sia consapevolezza perché questo tipo di disturbo non passa magicamente non è che crescendo si migliora anche se c'è diciamo una remissione se vogliamo dopo i 40 45 50 anni perché perché l'aspetto pulsionale naturalmente un pochino si ridimensione quindi anche nel borderline la dimensione pulsionale un pochino insomma fa in modo che sia meno esondante ma è un'organizzazione di personalità e come tale rimane cronica per cui è molto importante che chi rientra in questa condizione o chi ha figli o parenti o persone amiche che manifestano questo disturbo li convincono a farsi aiutare perché è indispensabile la terapia per poter garantire a una persona con di slow borderline di personalità una qualità di vita decorosa accettabile soprattutto per impedire a queste persone di fare del male a sé e agli altri purtroppo nella diciamo casistica giudiziaria soggetti con disturbo borderline di personalità li incontriamo spesso in sede di valutazione psichiatrica perché sono persone che davanti alla fine di una relazione arrivano anche a mettere in atto condotte molto molto gravi un caso su tutte sala del mastro la donna che ha sfigurato con l'acido il suo diciamo una persona conosciuta così in maniera molto superficiale ma lei si era convinta di voler stare con questa persona a tutti i costi questa persona Giuseppe Morgante non voleva stare con lei ed è qualcosa che ovviamente aveva ben diritto di scegliere e questa donna dopo averlo perseguitato a lungo poi era aggredito con l'acido purtroppo sfigurandolo in maniera permanente quindi attenzione a sottovalutare questo tipo di problematiche perché una volta che si instaura una reazione di angoscia abbandonica in questi soggetti la possibilità che possono giungere a mettere in campo condotte aggressive e distruttive è sempre dietro l'angolo quindi benissimo anche per quanto riguarda questo contributo direi che possiamo fermarci qui l'invito quindi a continuare a seguirmi in tutte le piattaforme arrivederci a presto